Cioè ok, anche se non ho ben capito come funziona E muore Non so cos'era quella merda Che sa Me va bene Me va bene Me va bene Vediamo qua cosa dice Non volevo vincere contro i prescelti di Malthus Mourwild e lui la incenerisce Non ho voglia di spiegarvelo Sono stanco Sono appena tornato al lavoro E allora ve lo spiego Perché appena Non lo voglio di spiegarmelo neanche a me stesso Li guardavo così per capire Ok Quindi dovevo andare Pronto per un combattimento E c'è che mi sta aspettando un grosso scontro Mi piace questo Voglio capire come cazzo funziona Io non ho ben capito questa cosa gli fa Immagino che sia Boh Sembra che li rallenta O li fa Tipo Non ho ben capito cosa fare Ok Però ho perso lo scudo Peccato E c'è che è una trappola E c'è che è una trappola Perché ha detto Odio Rogero così tanto Che gli ha preso La sorella E che l'ha trasformata in una schiava E ha detto Figlio di puttana Lui appartiene all'inferno E infatti adesso glielo portiamo Con grazia e astuzia Che bello andare incontro alla morte Sapendo benissimo che questa è una trappola Che bello andare incontro alla morte Ma questo è finito ora Tu e io abbiamo un vecchio morto per sottolineare Capitano Tua figlia? Mmm Cosa era un ucciso Tu sarai la stessa Non ti prendi attenzione Dice che mia moglie è stata un easy kill per lui E che sarà la stessa con me Non credo proprio che sarà lo stesso con me ragazzo Prima di tutto per il semplice il fatto che Adesso ti stupro la famiglia Poi secondariamente Ok Cazzo Non so che ti questo Te Non c'è sempre gente qua che mi rompe il cazzo Andate a fanculo Andate a fanculo No 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 Ok Perfetto Non vorrei morire anche a te Prima o poi Ok Ok Ti pete annonce Speri di questo 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 Se è andato Ok finalmente però è fottutamente morta Fanculo Ok Andiamo avanti pure Ok pensavo di doverla colpire Cesar ready for Quel codardo È andato al prossimo riliquiario Vieni È una sola riliquiario Ehm Non si vuole riliquiario 1% damage dealt Andiamo di Kinesi Sul primo E anche sul secondo Intanto che Il secondo non l'ho preso Con la Kinesi Triple effetto Se possiamo Boom Lo facciamo scomparire Immediatamente Cazzo Che cazzo vuoi? Ti ho detto vai via Ok Succhia Bitch Ti ho detto Rektai Eh Cazzo è Chi è quella bestia Non so che fosse Spero che ci cura Che gli ho erati Fantastico Oh Crypt è fantastico Quindi Crypt è fantastico Dove trovarla? Piace questo? Succhierei bene Vettura Quello Spara Eh vabbè Uno elettrico Colo Vabbè 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 piace questo? inizio di fargli una combo una combo strapotente socchiare beach wreck ok c'è già riclicato lo scudo c'è una runa tipo una pergamena un giornale ok ok facciamogli la due volte perché è never 6 in faccia ok quelli sono stronzi mi rompo abbastanza i coglioni easy easy fair level up easy poi neanche troppo perché comunque mi sono impegnato come avete visto ho anche smesso di parlare mi sono concentrato solo sullo stand di gioco sempre un altro ore di qui ario prima di andare avanti socchi te quanto da 1 a 10 lo sceglieremo dopo se quanto volete volete che vi dà una merda in pubblico cioè io non lo so questa gente si si smaschera pubblicamente come merda santa beh io questi poteri voglio avere io non ce li ho questi poteri ecco anche questo sarebbe comodo come potere non ho capito perché non fa tutto lui e scusa che cazzo vuole da noi sto qua io non ho capito ancora che cazzo vuole da me sto rotto ok abbiamo preso una runa e noi ce ne frega proprio da tanto verga fanculo ok ok fin qua ho scelto tutti mi avete rotto il cazzo nessun altro perché è l'unico colpire io non posso colpire scusate comunque guardate la facilità vaffanculo tasto destro del mouse oh una runa quella risata era veramente da coglione comunque comunque non cambia continua non fattutamente cambiare ma va bene noi continuiamo a craftare cose vedete non c'è nessun segno ah questo sta invece migliora vabbè strano 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 va bene vieni 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 qua ciao ciao ci sei da me delle informazioni ok quindi c'è una creatura demoniaca che c'è una creatura demoniaca che protegge una un congegno magico e noi immagino che dovremmo killarla ci sei da un'att succese Furthermore 2 5